Ensemble, nous sommes d'avance. Splendida tecnica, guardiano. Hai dimostrato la tua padronanza del livello 2 con grande abilità. Grazie, ti trovo estremamente rapido e intuitivo, ma non c'è bisogno che ti trattieni, prova a usare tutte le tue forze. Sei sicuro, giovane guardiano? Ricorda, se oggi non riuscirai a sconfiggermi, non sarò in grado di aiutarti. Queste sono le regole. Ci risiamo con le loro regole noiose. Qui serve un po' di leggerezza. Che cosa fa il guardiano del vento? Aaron, questo non è il momento di giocare. Sì, e allora perché il tuo amico Mecca ride? Io non... Non ho mai visto niente di così stupido. Non posso crederci. Ma sta così. Perdona il mio sfogo, ma il tuo compagno non stava mostrando rispetto per la prova. Lo so, è sempre... Ehi, posso ancora fare i versi con la bocca. Ora possiamo concentrarci sul nostro giovane guardiano combattente e utilizzerò la mia tecnica più avanzata. Schiverai la sua accelerazione di livello 2 con una manovra 35 e... Oh, non è una tecnica di livello 2. Negli anni trascorsi in attesa della lotta finale contro Darkor, ho sviluppato una nuova tecnica. Il livello 3 di Kionos. Kionos? Eh? Un dio da gelida impeccosa! Non c'è alcun margine d'azione. Iaah! Ha! Zotobo! Tocca a te. Ikor è la nostra ultima chance. Se stavolta non vinciamo, mi spazzerà via al suo prossimo turno. Ma cosa posso fare? Io non conosco il livello 3. Non ce la faremo. Che cosa succede se Ikor non riesce a batterlo? Non sconfiggeremo mai Darkan. Non dire così. Ikor riuscirà a vincere. Giusto, Aaron? Giusto. Ho fiducia in te. Tu abbila in te stesso. Beh, no. Non credo di farcela. Coraggio, guardiano. Sono certo che puoi padroneggiare qualsiasi tecnica. Ecco. Ecco. Qualsiasi? Qualsiasi. Va bene. Allora useremo il tuo solito attacco. Così mi piace. Aaaaaah! Cos'è quella? Una tecnica di livello zero? Mi aspettavo di più da un guardiano di ghiaccio. Guardiano. Cosa? Io non ho questo, non è. Una genita! Sì! Sì! Hurra! Woohoo! Wow, amico, è stato fantastico! Hai visto? L'umorismo è la risposta a ogni cosa. In effetti, in questo caso, è stata una strategia efficace. Oh, per favore, non incoraggiarlo. Wow! Sapete una cosa? Il concerto di Pernacchie funzionerebbe meglio. Come quintetto, tutti insieme! Avanti! Vedi cosa hai fatto? È tutto così sciocco! Ahahahah! Ahahahah! Dormiti raggiungibili! Chi mi fermerà? The legend is back! Legend is back! Dormiti! 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 Grazie a tutti.